Rosseto ce l'ha fatta, resta in Serie A avendo chiuso la serie contro Napoli 2-0 al termine di un doppio confronto mai scontato. Forse proprio per questo la permanenza in A2 ha un sapore ancora più gustoso, fatto di sofferenza, tantissima nella prima parte del campionato, di qualche piccola speranza a seguire, poi diventata più concreta nella seconda parte, e di speranza vera dopo che nella gara di andata gli Sharks avevano battuto Napoli pur non passeggiando. Ci serviva il coppaccio che è arrivato in terra partenopea anche soffrendo e realizzando i punti decisivi nei due minuti finali, passando dal meno 6 al più 5, 89 a 94 al quarantesimo. Insomma c'è stato anche il giusto pathos a Napoli dove un supero guide a 40 punti personali ha deciso di essere decisivo mettendo dentro quanto e forse più anche il più ingoribile e ottimista si sarebbe aspettato. Bene Carlino, bene di Buonaventura, ma un plauso particolare va ad Emanuele Di Paolo Antonio, esaltato dalla stampa nazionale dopo il grandissimo campionato scorso, e che ha saputo governare anche una situazione esattamente agli antipodi, confermando d'essere maturo al punto giusto anche per ipotizzare seriamente un futuro diverso dall'attuale. Resta la certezza, Roseto rimane in A dove le compete.